Ciao a tutti, sono Romano Frenquelli di FrenExport, un'azienda italiana, siamo a Easy Europe a Barcellona 2022, vi parlo dal nostro stand dove abbiamo fatto il nostro debutto, siamo un'azienda già presente in Italia dal 1976, ora ultimamente stiamo creando una divisione professionale e qui a Barcellona stiamo presentando due brand che abbiamo creato negli ultimi due anni e che si stanno affacciando sul mercato adesso, Elvia e Cento Light. Elvia è un brand pensato per installazione audio commerciale, mentre Cento Light si affaccia sul mondo della luce per lo show lighting ma anche architetturale. Siamo molto contenti di essere qui, c'erano molti dubbi a causa della situazione internazionale, due anni che tutto sommato le fiere si sono tenute in maniera ridotta e quindi c'era qualche timore da parte di tutti i noi operatori che l'evento non fosse riuscito, potesse non riuscire completamente ma i visitatori ci hanno smentito sia in quantità, ho sentito ieri 25 mila presenze nel primo giorno ma anche in provenienza, è venuta gente da tutta Europa e anche fuori dall'Europa nonostante ci siano ancora dei problemi legati alla mobilità internazionale e molti contatti, molti contatti, molta voglia di fare nuovi progetti sia di installazione che anche progetti su live e di qualsiasi tipo. Quindi siamo molto molto contenti e crediamo che questa fiera ci porterà molto lavoro. Questo starà a noi catalizzare quanto raccolto e trasformarlo in realtà, in fatti concreti. Qui abbiamo una piccola garellata, un'anticipazione di quello che poi si trova più semplicemente visibile sul web con Elvia, che è il nostro brand per l'installazione commerciale, elviasystem.com, il sito di riferimento. Abbiamo delle soluzioni per il settore orega principalmente, quindi altoparlanti da controsuffitto. Poi abbiamo tutta una serie di diffusori molto molto pratici, molto convenienti per quel che riguarda l'installazione anche all'esterno. IP65 in varie misure, in colore nero, bianco, molto molto versatile come prodotto, curato nel disegno ma anche nel sound. Una serie di microfoni, questi più pensati per il conference, i nostri amplificatori, accento box, attenzione costante, integrati only one con player, dub, wifi, due zone, quattro zone e modelli un po' più evoluti con display touch, gestibili anche da interfaccia web. E poi per finire abbiamo la serie dei diffusori full range, da 15 fino a 6 pollici, sempre adatti quando serve un po' più di volume, quindi non in situazioni solamente di musica di background, corredati dai nuovissimi amplificatori Elvia. Elvia, Zeus 404X, 604X, 804X che sono di dimensioni diverse, quattro canali, class D molto molto effettivi anche come suono, molto stabili ma stabilità non diciamo sacrificando la qualità e la dinamica del suono perché sorprendono anche noi a volte. Questo prodotto è molto molto stabile, l'abbiamo utilizzato anche negli anni precedenti, i nostri clienti sono molto soddisfatti quindi invito a cercare maggiori informazioni e a provarlo. Abbiamo anche delle soluzioni diciamo a colonna, in array, qui ne vedete un esempio, anche in colorazione bianca, è molto importante per il design di alcuni ambienti e molte altre ne arriveranno durante il corso dell'anno e l'anno prossimo perché abbiamo in progettazione molti nuovi prodotti quindi siamo un brand molto molto giovane nato nel 2020 e vedrete sicuramente moltissimi nuovi prodotti e soluzioni sempre per quanto riguarda l'audio commerciale, ci poniamo nei confronti del cliente per dare soluzioni a problemi pratici. I nostri clienti sono gli installatori, ovviamente dobbiamo dare un qualcosa che dia al loro cliente finale un risultato effettivo, immediato, scevero da problemi di manutenzione che durino il tempo e anche secondo il loro budget che sia accettabile.